... 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 Posso chiedervi perché siete in piazza oggi? Perché ci hanno stufato! Lei da quanto tempo è precaria? Più di vent'anni! Posso chiedervi perché siete in piazza oggi? Perché non siamo favorevoli alla riforma della buona scuola di Renzi. La scuola che si trasforma in un'azienda con un consiglio di amministrazione in cui i privati possono dire la loro e quindi è contraria alla libertà per esempio di insegnamento. Io sono una poetana e insegno alle scuole superiori. Alle scuole superiori. Da quanto tempo è precaria? Da 12 anni. Da 12 anni? Sì. Rientrerà nel... C'è il rischio di rimanere disoccupati perché le promesse di Renzi della stabilizzazione di tutti i precari in grado di torre ad esaurimento in realtà è smentita dai fatti perché probabilmente le assunzioni avverranno soltanto in corrispondenza al turn over quindi per sostituire i docenti che andranno in funzione. Quindi saranno pochi gli messi in ruolo. La valutazione non la può fare il dirigente. La valutazione deve essere in terra. È giustissima la valutazione. Ma non può fare il padrone, il dirigente scolastico, perché non ne sanno mezzo di didattica ma io il mio lavoro lo faccio bene. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao! Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, oh bella ciao! 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 Ciao!